Ciao, Lucia sia la pizza che vuoi! All'interno di Luceva alle stelle, lo spettacolo Medea allo specchio per valorizzare comunque una proposta culturale all'insegna della spensieratezza a due passi dal mare. Spensieratezza, non so se è la parola giusta, comunque è all'insegna della ricerca e dell'interpretazione di una tragedia greca che porterà in scena ben 5 Medea. con un Giasone, quindi 5 sfaccettature della complessità, della personalità, dei talenti e delle potenzialità femminili in chiave contemporanea. Uno spettacolo che si avvarrà anche di una presenza importante che è quella di Mirella, di Casa Serena ed è uno spettacolo che noi abbiamo costruito in continuità con il percorso avviato con impronte femminili e teatro in faccia. Ringrazio Lucilla Monaco ma tutte le rappresentanti che andranno in scena e tutto comunque l'associazione teatro in faccia perché il percorso che hanno fatto è stato intenso e determinato, il percorso di prove anche durante le limitazioni del lockdown. Non si sono perse d'animo e porteranno giovedì in scena uno spettacolo molto interessante e vi invito ad esserci. Sono pericolosa perché sono una donna che sa, una donna che può cambiare le sorti dei potenti e poi sono esule in terra straniera. 5 agosto, Medea allo specchio, Anfiteatro Rastat, 21 e 30.